Cari amici, buonasera, buonasera. Allora, come sapete, ieri si è tenuto al Palazzo del Quirinale il Consiglio Supremo della Difesa. In sostanza il Presidente Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di Difesa. Andiamo a vedere insieme di che cosa hanno parlato, su quali temi si sono confrontati e quali sono eventualmente le scelte da mettere in campo. Allora, ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale si è tenuto alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Alla riunione hanno partecipato il Presidente del Consiglio, Conte, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio, il Ministro dell'Interno, Lamorgese, il Ministro della Difesa, Guerini, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Gualtieri, il Ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Becciarelli. Hanno altresì presenziato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Onorevole Riccardo Fraccaro, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Dottor Ugo Zampetti, il Segretario del Consiglio Supremo di Difesa, Generale Rolando Mosca Moschini. Il Consiglio, dopo aver espresso riconoscenza a tutte le articolazioni della difesa, che stanno fornendo il loro prezioso contributo con assetti sanitari, logistici e operativi, alla risposta nazionale alla pandemia, ha fatto un punto di situazione sulle principali aree di instabilità e sulla presenza delle forze armate nei diversi teatri operativi. L'emergenza sanitaria ha prodotto una crisi globale con conseguenze di natura sociale ed economica che rischiano di accentuare la conflittualità in diverse aree del mondo. È indispensabile in questa fase un rilancio del multilaterismo, della solidarietà e della cooperazione in tutti i campi. Il terrorismo transazionale resta una minaccia, soprattutto nelle aree più fragili. La criticità dell'attuale situazione impone di non abbassare la guardia e di continuare a contribuire con decisione alle iniziative tese a contrastare il fenomeno. L'innalzamento del livello della tensione del Mediterraneo orientale desta preoccupazione. Il Consiglio ha auspicato il rispetto delle convenzioni internazionali è un'azione coordinata volta a scongiurare i rischi di escalation, a fine di garantire la stabilità di area strategica per gli interessi nazionali. La Libia è essenziale uno sforzo congiunto della comunità internazionale affinché la tregua in atto possa essere consolidata senza le ingerenze di attori terzi, permettendo una soluzione diplomatica gestita dalle Nazioni Unite che bada ad esclusivo vantaggio del popolo libico. Il Consiglio ha espresso vicinanza al popolo libanese, duramente colpito dalla sciagura del porto di Beirut. L'Italia conferma il proprio impegno a ogni forma di collaborazione orientata a consentire una rapida risoluzione dell'emergenza e un ripristino della normalità. Strano che non abbiano parlato di nuova normalità. In Iraq e Afghanistan si conferma il forte impegno a sostenere lo sforzo internazionale nella lotta al terrorismo. L'impiego dei contingenti nazionali dovrà avvenire con un approccio condiviso e in stretto coordinamento con gli alleati. La Nato e l'Unione Europea restano i pilastri della politica di sicurezza e difesa nazionale. L'Italia è impegnata con condivisione nel preservare e rinnovare la valenza delle due istituzioni fondamentali per la pace e la prosperità dei popoli. In un contesto reso più instabile dagli effetti della pandemia, la saldezza di questi organismi costituisce un punto di riferimento per il rilancio dei Paesi membri. Il Consiglio ha quindi analizzato il processo di ammodernamento delle forze armate. Gli investimenti della difesa favoriscono lo sviluppo dell'intero sistema Paese e fungono da traino soprattutto nei settori ad elevata tecnologia. È auspicabile coniugare la maggiore richiesta di sicurezza con le opportunità di riuscita offerte dal comparto. Ciò richiede certezza nell'allocazione pluriennale delle risorse anche per consentire una proficua sinergia con l'industria nazionale della difesa e dell'aerospazio. In tale quadro si è infine convenuto sulla necessità di effettuare una verifica della legge 244-2012, revisione dello strumento militare nazionale, al fine di individuare eventuali correttivi in relazione al mutato contesto di riferimento e di procedere al completamento del processo di riforma della difesa in senso unitario e interforze, in linea con i dettami della legge 25 del 1997. Firmato, datato 27 ottobre, quindi ieri. Allora amici, questo è il comunicato che potete trovare sul sito del Quirinale. Magari ve lo linko anche qui sotto nella descrizione di questo video. Allora, personalmente sono due gli aspetti su cui mi soffermerei a riflettere. Il primo è questo qui, nel primo paragrafo, subito dopo l'elenco di chi ha partecipato, dice il Consiglio, dopo aver espresso riconoscenza a tutte le articolazioni della difesa che stanno fornendo il loro prezioso contributo con assetti sanitari, logistici e operativi, alla risposta nazionale alla pandemia da Covid, ha fatto un punto di situazione sulle principali aree di instabilità e sulla presenza delle forze armate nei diversi teatri operativi. assisteremo a una militarizzazione del paese, amici? È molto probabile, molto probabile. Qui parla di un punto di situazione sulle principali aree di instabilità e vogliamo vedere che le principali aree di instabilità saranno proprio quelle zone dove ci sono stati degli scontri. Parliamo di Torino, Milano, Napoli e Roma principalmente, ok? Le città dove, oltre a altre manifestazioni assolutamente pacifiche, ci sono stati anche degli scontri con le forze dell'ordine. Un altro punto importante dove vorrei richiamare la vostra attenzione, cari amici, è questo ultimo punto, all'ultimo paragrafo, dove si dice in tal quadro, dopo che sarà fatta la premessa, si è infine convenuto sulla necessità di effettuare una verifica della legge 244-2012, revisione dello strumento militare nazionale, al fine di individuare eventuali correttivi in relazione al mutato contesto di riferimento e di procedere al completamento del processo di riforma della difesa in senso unitario e interforze, in linea con i dettagli della legge 25 del 1997. Allora, personalmente non ho letto queste leggi, non le conosco queste due leggi, andrò ad approfondire sicuramente e magari mi farà aiutare anche dall'avvocato Alessandro Fusillo. Chiederò un suo parere in merito, dato che lui è un avvocato, un giurista e quindi sicuramente potrà aiutarci molto meglio di quello che potrei fare io a capire eventualmente quali sono gli obiettivi, quali sarebbero i risvolti andando a modificare queste due leggi. Amici, questo era il comunicato del Quirinale, dovevo assolutamente condividerlo insieme a voi. Fatemi sapere voi in che modo interpretate ecco appunto questo comunicato qui sotto nel video. Io vi do appuntamento momentaneamente a un prossimo video. Non so se stasera riusciremo ad effettuare anche una live sulla situazione in Italia, le varie manifestazioni in atto. Vediamo un attimino, se riesco a organizzarmi lo farò con molto piacere. Vi mando un grande abbraccio, un grande saluto e appuntamento al prossimo video. Ciao!